ciao a tutti da bolsa d'italia ben trovati andiamo avanti con i nostri video continuiamo a parlare di potature primaverili e questa potatura primaverile vedremo il carpino carpino carpinus coreana quindi il carpino coreano e di carpini coreani ne coltiviamo diversi non ne abbiamo solamente uno è una pianta che ci piace particolarmente e in questo video vediamo la potatura primaverile abbiamo scelto questa pianta proprio perché per farvi vedere la differenza di vigore che praticamente può avere ad esempio il larice come abbiamo visto nel video precedente e ad esempio un carpino soprattutto quello coreano che è meno vigoroso del carpino nostrano del carpino bianco che abbiamo noi in italia la differenza veramente è notevole in noturno anche qui abbiamo praticamente ha lasciato le tre gemme sui rami nuovi proprio per vedere dove si aprivano le gemme abbiamo lasciato quelle visibili tenendo in considerazione che il carpino non apre tutte le gemme quindi non apre soprattutto quelle interne e abbiamo saltato qualche gemma proprio per essere sicuri che la pianta non avesse problemi allora andiamo innanzitutto andare a analizzare la pianta e vediamo come 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 si presenta adesso come ha lavorato questa qui è la pianta e vi dico subito che quest'anno abbiamo anche eseguito il rinvaso come al solito si comincia dalla parte bassa della pianta allora come potete vedere qui ci sono una serie di rami che che si intrecciano magari anche tra di loro perché partono dallo stesso punto e comunque vanno andranno sistemati ovviamente questo discorso sul carpino coreano deve essere preso veramente con le pinze nel senso che è una pianta che tende insedutto a non aprire tutte le gemme come sapete ma anche a seccare rami quindi la pianta molto molto delicata da questo punto di vista e quindi dobbiamo cercare di lasciare più ramificazioni possibili allora come potete vedere ad esempio prendiamo ad esempio questa ramificazione qua qui la pianta come potete vedere ben vedere ha aperto le tre gemme le tre gemme che sono in punto ormai sono praticamente gonfissime sta aprendo le foglie però vedete che qui all'interno non c'è niente cioè qui ci sono delle piccole gemmette piccoline non la camera non riesce bene a inquadrarle comunque vi garantisco che ci sono ma sono talmente piccole che la pianta non le ha aperte magari queste gemme qua sembreranno fra un due anni non è detto e praticamente noi in autunno che cosa abbiamo fatto non siamo non siamo intervenuti sulla pianta cioè abbiamo lasciato solamente quelle gemme che erano un po più grosse rispetto a quelle che si trovano all'interno quindi la pianta ha aperto le gemme che abbiamo lasciato e lo ha fatto anche in altri punti come qui come qui vedete abbiamo lasciato tre gemme e la pianta aperto quelle quelle interne non l'ha aperte proprio allora abbiamo fatto molto bene perché perché se avessimo tolto queste gemme che che si sono aperte adesso però molto probabilmente questi rami qua si sarebbero secchiati perché la pianta ha sì quelle gemme lì però non è che togliendo quelle diamo forza a queste qui se sono troppo piccole soprattutto se sono piante poco vigorose un discorso del genere possiamo farlo tranquillamente sull'olmo se fosse stato un olmo queste tre gemme qua le avremmo comunque tolte perché siamo sicuri al 90 per cento che le gemme che si trovano all'interno si aprono però questo discorso qua su alcune piante non può essere fatto come il carpino coreano quindi questo è stato il motivo per cui non abbiamo tagliato quelle tre gemme lì adesso cosa succederà succederà che la pianta aprirà queste gemme qui può darsi che durante la stagione vegetativa qui all'interno la pianta magari apra le gemme qualche gemma la apre quindi in quel caso se vediamo che qui si spunta la gemma a questo punto accorceremo qua e quindi facciamo un esempio pratico se qui si apre una gemma qui contiamo quella lì quindi facciamo uno due tre e andiamo a togliere questa gemma questa qui apicale quindi il discorso è molto molto semplice ovviamente sempre nei rami che si trovano nella parte bassa della pianta lasciamo più gemme possibili ok andiamo a vedere il resto della pianta ma come potete ben vedere la pianta si è comportata allo stesso modo quasi su tutti i rami questa qui è una pianta che ha un'ottima esposizione perché è esposta in pieno sole non è quello il problema è proprio un problema che ha in sé la pianta anche qui vedete che ha aperto le gemme quindi a tre quindi a tre lasciamo così com'è e anche per tutto il resto della pianta ovviamente con la potatura estiva possiamo intervenire sul carpino perché molto probabilmente la pianta farà la gemma che è nell'apice si allungherà abbastanza e quindi lì magari possiamo effettuare la potatura estiva adesso non possiamo toccare la pianta proprio assolutamente andiamo a vedere anche nella parte alta quindi per chi di voi alle piante in questa situazione qua di non toccarle e di lasciare le tre gemme visibili che abbiamo lasciato in autunno anche qui il discorso è il medesimo addirittura in certi punti qui la pianta ha aperto solamente una gemma e qui siamo pensate nella parte alta della pianta ha solamente una gemma aperta all'interno ci sono delle gemmette sono piccolissime ma non le ha ancora aperte non so se le aprirà spesso non le apre e quindi siamo costretti a tenere la pianta in questo stato dobbiamo osservare la pianta durante il suo arco vegetativo per vedere la situazione se migliora oppure no però tenendo sempre a mente che il carpino quello coreano non ha un vigore eccezionale anche qui questa parte qua ad esempio c'è molta confusione in questi rami andranno accorciati ma nel tempo anche qui ha due gemme nella parte apicale e le due gemmette che sono qui all'interno non si sono aperte quindi questo ramo qui non possiamo adesso tagliarlo il carpino è una pianta in cui va lasciata più vegetazione possibile proprio perché proprio per questo motivo e dobbiamo stare molto molto attenti spesso qualcuno qualcuno di voi ci hanno detto che praticamente hanno letto che il carpino è una pianta vigorosa è un po come l'olmo vi assicuro che non è così non è così anche il nostro carpino il carpino italiano il carpino bianco non è molto rigoroso quindi attenzione non trattatelo come l'olmo per esempio un intervento che possiamo fare è questo qui siamo proprio nella parte alta della pianta siamo proprio nell'apice qui c'è stranamente questa cacciata qui che ha aperto questa gemma qui all'interno quindi una due tre e quattro quindi in questo caso solamente in questo caso perché le gemme sono visibili di gonfie pronte possiamo lasciare come sapete come abbiamo gli abbiamo insegnato le tre gemme e quindi andiamo a togliere questa gemma qui lasciando le tre e su piante vigorose ad esempio rifacciamo l'esempio dell'olmo ad esempio invece che lasciarne tre possiamo lasciarne anche due nella parte alta però solamente nella parte alta perché sono piante molto molto forti per le per altri tipi di piante che hanno un vigore medio scherzo vi consiglio di lasciarne sempre tre anche anche nella parte nella parte alta ad esempio anche qui anche qui per esempio la pianta aperto una gemma qui e che però non la contiamo perché sta in un punto un po' strano su un altro su un non la contiamo contiamo da queste quindi una due e tre ne ha un'altra qui con quattro questa quindi possiamo attornare a togliere questa gemma qua lasciando queste gemme qui quindi la potatura da fare anche sul carpino coreano è proprio questa lasciare le tre gemme dove sono visibili come potete vedere la potatura è stata praticamente nulla abbiamo tolto veramente due due piccoli rametti rametti però volevamo ci teniamo a farvi vedere il video sulla potatura del carpino coreano perché non abbiamo mai fatta vedere quella primaverile la pianta si presenta in questo stato qua quindi adesso poi riprenderemo la pianta se sarà necessario se la pianta farà qualche lunga cacciata in estate con la potatura estiva il carpino è uno di quelle piante soprattutto questo che tende anche a fare il fiore lo fa nella parte interna dei rami quindi se vedete una gemma diversa strana quello è quello è un fiore un fiore del carpino forse ne abbiamo uno anche noi vediamo se riusciamo a farvelo vedere mi sembra che ne ha prodotti qualcuno si eccolo la eccolo questo qui questo qui è un fiore è il fiore che produce il carpino ok detto questo abbiamo finito con il video so che è stato un video un po' particolare un po' strano abbiamo tolto veramente quasi niente però come abbiamo sempre detto la tecnica della potatura è la stessa su quasi la totalità delle piante ovviamente però le piante sono diverse l'una dall'altra quindi bisogna prima sapere conoscere la pianta come si comporta il suo reale vigore dopodiché una volta che si conosce la pianta pian piano si comincia a effettuare la potatura senza avere fretta altrimenti andiamo andiamo a rovinare la pianta ok un saluto da bonsai italia e noi ci vediamo ovviamente sempre nei prossimi video ciao